La fase istruttoria della ricostruzione dell'Aquila e delle sue frazioni potrebbe concludersi a cavallo tra il 2020 e il 2021. Se tutti ingegneri, presidenti di consorzio, committenti, imprese rispettassero i tempi, la ricostruzione della città potrebbe concretamente chiudersi nel giro di 4-5 anni. Queste le stime del Comune dell'Aquila e dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione. A fare il punto della ricostruzione privata nell'anno che si sta concludendo, sono stati questa mattina il responsabile dell'Ufficio Speciale Salvo Provenzano, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e l'assessore alla ricostruzione Vittorio Fabrizi. Tutti gli obiettivi sono stati rispettati, spiega Provenzano. Abbiamo sostanzialmente concluso le vecchie procedure e abbiamo studiato un numero di pratiche che è compatibile con quello che pensavamo, oltre 200 SP1 e più di 150 SP2. In termini di importi siamo in linea con gli altri anni. Abbiamo impegnato più di 550 milioni complessivi e oltre 290 di contributi già erogabili e quindi cantierabili. Con riferimento alle previsioni siamo in linea con quanto si dice da qualche anno, che nel 2021 verrà ultimata l'attività istruttoria e poi i cantieri un paio d'anni dopo. Significa che in due anni verranno istruite tutte le pratiche dell'Aquila, mentre gli edifici privati dell'Aquila verranno ricostruiti nei prossimi 4-5 anni perché c'è sempre un delta tra l'attività istruttoria e poi l'inizio dei cantieri e la loro conclusione. L'assessore alla ricostruzione Fabrizi ha ricordato i provvedimenti messi in campo in questo ultimo anno. Dal nuovo cronoprogramma al commissariamento dei consorsi non costituiti, il primo incarico su 200 immobili da commissariare è stato affidato alcune settimane fa e riguarda un immobile nella frazione di Paganica. I progetti unitari poi nelle frazioni, la standardizzazione dei contratti edili e delle procedure di controllo, la velocizzazione dei pagamenti dei SAL. Servono ancora 4 miliardi circa per concludere la ricostruzione dell'Aquila e anche del cratere sismico per un totale di oltre 5 miliardi. Nel 2020 si esauriscono i finanziamenti pluriannali della tabella E approvata con la legge di stabilità del 2015 e quindi bisogna trovare nuove risorse. Dalle stime fatte dai titolari dei due uffici speciali servono altri 4 miliardi di euro. È una cifra non impossibile per le casse dello Stato nonostante le ristrettezze. nonostante le ristrettezze. nonostante le ristrettezze.